Kate Middleton incinta visita ostetriche e ginecologi. E aspetta una bambina. La duchessa di Cambridge sempre più solare a Londra. E nonostante la mise blu, i bocchis sono sicuri, George e Charlotte avranno una sorellina Kate Middleton incinta prosegue nelle sue visite ufficiali. La duchessa di Cambridge sta proprio bene con il suo pancione, le nausee di inizio, terza, gravidanza sono ormai solo un brutto ricordo e lei non vuole certo tirarsi indietro nei suoi impegni. Così, ecco la raggiante a Londra. Con i tabloid inglesi che sono certi, ad aprile, nascerà una bambina, a Londra questa volta, Kate Middleton è in visita ostetriche e ginecologi al Royal College di Londra. Sfoggia un cappotto blu che ingannare sul del nasciutro. Già, perché i tabloid inglesi hanno rotto tutti gli indugi delle ultime settimane. E scomettono decisamente sull'ho fatto perché il terzo Royal Baby sarà femmina. Sara, femmina secondo i tabloid inglesi, è la stessa pancia di Kate a rivelare. Che George e Charlotte avranno presto una sorellina, un pancione alto, molto tondo, ingombrante, tale e quale quello che la duchessa di Cambridge aveva mentre aspettava la sua secondogenita. Quindi, l'equazione dei tabloid è fatta? Tutto tace quello che è certo è che Kate Middleton gioca con i colori delle sue mise per sviare le indiscrezioni. E lei stessa, come pure il principe William, tace. Anche perché non vuole attirare troppo l'attenzione su di sé. Meglio, non ne vuole attirare più di quanta già non le sia riservata. Bisogna ricordarsi che c'è anche un Royal Wedding alle porte, quello tra Harry e Meghan Markle. E il galateo impone pacatezza. Meglio, non ne vuole attirare più di quantità.